Papadopulo, nuovo allenatore del Bologna Calcio, riuscirà a salvare la squadra dalla Serie B? Lo abbiamo chiesto ai cittadini bolognesi. Io me lo auguro, perché se no se si va in Serie B arrivano anche meno soldi da Sky, e poi di ora anche tornare su in Serie A dopo. Speriamo in Papadopulo, dai. Non è che mi piace, è il solito salva partite, salva campionato, praticamente arriva sempre alla fine per salvare tutte le squadre. Indubbiamente c'è sempre riuscito, speriamo ci riesca pure questa volta. La speranza per il Bologna è per restare in Serie A, secondo me? Certo, certo, ci mancherebbe, ma è un buon allenatore, indubbiamente. Noi speriamo anche quello, nel senso che ogni tanto guardiamo le partite, chissà quello là perché l'hanno eliminato. L'hanno eliminato perché magari per la società non gli andava bene. Speriamo che questo qua sia il perfetto. No, io sono un intervista, quindi a me andava bene Sinisa. Sinisa è un grande, ma tornerà. Sono convinto che torni. Chi? Sinisa, mi andrà. Ha fatto un'intervista, la leggevo prima su Repubblica, ha fatto un'intervista che non possono i bolognesi non amare Sinisa. Senza credine, con grande eleganza, insomma, penso che sia uno dei nostri, quindi mi dispiace che se ne vada. Tutto sommato le colpe sono relative, è la squadra che non è granché. Ma è un buon allenatore, è un buon allenatore. Riuscirà a salvare il Bologna dalla Serie B? Io ci spero. Comunque l'esperienza sarà meglio di Milanovic. Speriamo bene allora. Speriamo che Dio ci aiuti, tanti auguri, perché io mi auguro che Bologna rimani in Serie A. Grazie. 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 Grazie.